invece lo vediamo in pantaloncini neri con banda bianca Rafael Orono è un grosso personaggio, primo round è imbattuto, 25 match, 25 successi, ben 14 per KO professionista dal 1979 ed è alla seconda difesa del titolo che ha conquistato improvvisamente a sorpresa a Caracas all'inizio del 1980 battendo Sang Hong Lee, coreano sebbene avesse una mano fratturata pantaloncini verdi di schiena in questo momento sulla sinistra Rafael Orono con noi a commentare insieme a Patrizio Liva anche Salvatore Bottiglieri, grandissimo campione napoletano anche lui che conosce molto bene questa categoria dei Super Mosca anche se lui è relativamente di categoria superiore comunque siamo a categorie a lui abbastanza familiari Renkifo ha preso il centro del ring in questo momento c'è una fase di scambi di ricerca della misura da parte di entrambi c'è anche il presidente della Repubblica Venezuelana a bordo ring e l'arbitro, scusate questa digressione vale la pena chiama Zachary Clayton ed è stata una stella del basket statunitense giocando professionista tre anni con il Philadelphia 49 e 10 con il Yarem Globetrotter arbitrando 16 mondiali ha preso decisamente in pugno la situazione Renkifo che spara botte tremende Bottiglieri si lo sfidante sta recitando al meglio il suo ruolo cioè sta attaccando, sta prestando Orono e sta facendo quello che uno sfidato deve fare cioè cercare di far lui il match ha visto un bel sinistro al corpo piazzato ancora cerca di caricare al massimo i colpi Orono che vanta più del 50% dei successi prima del limite ma Renkifo è pronto a rispondere colpo su colpo obbligando a una difesa molto chiusa Orono abbiamo visto un bel sinistro di Orono colpi di prima intenzione la difesa precedente del titolo mondiale la vinta contro Ramon Soria e punti in 15 riprese anche questo combattimento è sulle 15 riprese bellissimo il destro di Renkifo mattatore in questo primo round senza nessun complesso nei confronti dell'avversario di nuovo attendono il momento dell'attacco che termina la prima ripesa Patrizio ma possiamo aggiudicare questo primo round allo sfidante ha rotto subito il ghiaccio in questo primo round aggredendo Orono colpendolo addirittura con un buon destro un colpo che Orono ha sentito e siamo al secondo round campionato del mondo dei pesi Super Mosca tra il campione Saffaello Orono e lo sfidante John Vittorin Gifo si nota anche subito la differenza di statura Orono oltre a somigliare moltissimo come faccia come volto grande Leonardo è quasi alto come lui essendo alto un metro e settanta un metro e settanta per la categoria dei Super Mosca è sicuramente una bella altezza vero Bottiglieri? si si è molto alto e questo ma proprio a dispetto del fatto che sia anche un grosso picchiatore di solito gli uomini alti prediliggono la box e lui dimostra di saper banca e boccasare muovendosi intorno all'avversario anche sulle gambe però i suoi successi prima del limite e questi colpi che sta sventagliando dimostrano il fatto che sia veramente un picchiatore temibile un grande passato anche da direttante per Raffaello Orono 125 match con 105 vittorie la dicono lunga sulle sue possibilità comunque lo vediamo in difesa perché Renkifo nonostante abbia un palmares meno segnato di K.O. del suo avversario ha sicuramente una grande potenza nelle braccia e in ogni occasione tende a farla esplodere pantaloncini verdi ripetiamo Raffaello Orono campione del mondo venezuelano contro Covito Renkifo anche lui venezuelano numero 4 all'epoca nelle classifiche mondiali una grande occasione per Venezuela che porta al titolo mondiale due suoi rappresentanti a cercare si mantiene molto lontano Orono Patrizio si certo adesso sta cercando di non dare bersaglio allo sfidante visto che comunque è uno che si butta dentro proprio per cercare di piazzare dei colpi potenti quindi certamente Orono deve cercare di non di non concedergli questo bersaglio quindi sta cercando di boxare sulla lunga distanza colpi lunghi da parte di Orono adesso abbiamo visto una falte a corta distanza buono il lavoro alla figura di Orono porta colpi larghi buono bellissimo il montante d'incontro montante destro di Orono su attacco di Regifo buono come scelta di tempo il montante di Orono al bersaglio grosso vediamo che ancora Barcolla ha sentito il colpo proprio ma è ancora l'attacco Orono scaglia i colpi potenti si butta proprio dentro l'albitro adesso interrompe questa azione proprio potente di Orono ancora destro montante sinistro di Orono si aggrappa Regifo e termina il secondo round e possiamo dire proprio arriva Propizio a salvare questo sfidante da questa furia scatenata di Orono lo devo sentire da Bottiglieri beh penso che Orono abbia dato una risposta a quello che prima avevo detto io cioè mi meravigliavo come un puggine alto così e box ma in quel modo potesse essere potente qui ha dimostrato che ha fatto della sua potenza la precisione e la scelta di tempo infatti con quel colpo penso che abbia l'abbia detta lunga su tutto ha avuto una scelta di tempo veramente eccezionale e poi tentava di finire Renchivo Renchivo così è riuscito a trattenere poi con l'aiuto anche del bravo Zachary Clayton quest'arbitro simpaticissimo oltretutto è riuscito a terminare la ripresa e vediamo ora mentre i suoi secondi cercano di scuoterlo di scuoterlo che cosa riuscirà a combinare veramente comunque un montante così è stato è veramente rarissimo vederlo si è stata perfetta l'azione di Orono per scelta di tempo e precisione un montante destro proprio alla punta del mento di Renchivo e quindi nulla ha potuto lo sfidante a un colpo così potente adesso Orono sta cercando di chiudere il conto si è lanciato sull'avversario senza fare complimenti ancora continua cerca in qualche maniera Renchivo di sottrarsi legando abbracciando addirittura ha appoggiato le braccia sulle cosce sulle gambe per fermare l'irruenza di Orono che vede la possibilità di chiudere in questa terza ripresa il conto di questo mondiale cioè la seconda difesa vittoriosa ha piastato un colpo stupendo ancora il destro ancora il destro Clayton era pronto ad accettare il conteggio Orono aspettando l'intervento dell'arbitro che non c'è e l'arbitro adesso in questo momento sospende il match c'era in difesa passiva lo sfidante ma comunque non erano proprio colpi puliti vediamo proprio la gioia di Orono per questa vittoria ottenuta per Capò dobbiamo dire Giacomo che comunque non erano proprio colpi pulitissimi quelle di Orono ma certamente colpi sostanziosi colpi che hanno scalfito l'integrità fisica di Renchivo e quindi ha costretto l'arbitro a fermare il match a giudicare dalla vehemenza con la quale Orono ha cercato di chiudere il match e dalle sostanze che sta avendo adesso penso che i pugili si dovevano conoscere già prima e che l'uno temeva senza altro l'altro e quindi questo spiegherebbe anche il perché del marcia indietro di Orono pur essendo un grosso picchiatore e tutta quella abnegazione all'attacco di Renchivo e comunque abbiamo assistito a uno dei più bei colpi e qui che ci sono due pugili possono dire che in fondo quel tipo di montante è il sogno di tutti i pugili mi pare proprio perché quando affrontano questi avversari che avanzano con la testa che gli danno le testate il sogno è questo montante caricato che Orono questa volta è andato a segno si certamente sono colpi comunque veramente bisogna avere una grossa scelta di tempo per portarli perché comunque sono colpi pericolosi perché il montante è un colpo che mentre lo porti ti apri tutto tutto nella guardia mentre vediamo ancora ecco qua il destro ed eccolo qua il montante il montante di Orono